Sì, adesso questo pezzo vorrei dedicarlo perché ho visto che ci sono tanti qua che secondo me hanno già dei figli, delle figlie, no? No, sapete quando a un certo punto le bambine cominciano a uscire che diventano un pochino grandi e allora il papà si intristisce perché gli viene un po' di gelosia perché dice cosa succede e si straccia tutta la faccia con lui e quindi io volevo dedicarla a lei che ha detto che sono bravo e anche a quell'altra la che è caduta prima. Ma perché se non mi piace, se non mi piace, se non mi piace, non mi è capito perché non mi piace, se non mi piace, se non mi piace, quindi io volevo dedicarmi a me, ma non mi piace. La tua madre è un po' che non hai, che non passa e la donna vai. A te lo so, così dentro, qualche cosa è un pito di pianto, e poi te lo so, e poi te lo so, e poi te lo so, e poi te lo so. La tua madre è un po' che non hai, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.